Su che cosa pensa lei del salario minimo? Ma guardi, l'idea di poter stabilire i livelli salariali, che lo Stato, che ci sia una politica dei governi che possa stabilire i livelli salariali è ridicolo, è patetico. Grazie. Grazie. Che ci sia una politica dei governi che possa stabilire i livelli salariali è ridicolo, è patetico. Che ci sia una politica dei governi che possa stabilire i livelli salariali è ridicolo, è patetico. Grazie. 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 Grazie.